Oltre 380 tonnellate di sementi di frumento per la produzione di grano da farina certificato, pare un valore superiore a 300.000 euro, sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza. L'indagine nasce dall'attività del Nucleo Speciale Beni e Servizi di Roma, che ha sviluppato un'analisi di rischio per prevenire fenomeni fraudolenti nel settore della produzione delle varietà vegetali certificate, verificando il rispetto degli obblighi in materia di commercializzazione di beni e sementi iscritti all'ufficio comunitario per le varietà vegetali o all'ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle Imprese del Made in Italy, inviando sette segnalazioni ai reparti del corpo competenti per territorio. È così che i finanzieri dei comandi provinciali di Bari e Trapani hanno riscontrato a carico di tre aziende di rivendita di sementi, due in Puglia e una in Sicilia, la cessione di 6.220 sacchi e confezioni di grano duro delle varietà tracciate senza aver effettuato il pagamento della prevista equa remunerazione a vantaggio dei costitutori delle specie vegetali, rilevando anche miscelazioni illecite degli stessi prodotti con quantitativi di grano non certificato. I controlli hanno riguardato anche soggetti economici ubicati in Campania e nel Lazio, hanno portato alla denuncia di tre persone alle procure della Repubblica di Bari e Marsala per il reato di fabbricazione e commercio di beni usurpando titoli di proprietà industriale. L'operazione ha ricevuto il sostegno del comparto agricolo alla base del sistema informativo anticontraffazione della Guardia di Finanza, piattaforma telematica dedicata alla collaborazione con aziende e associazioni che consente tramite l'accesso riservato la partecipazione dei titolari dei marchi all'azione delle fiamme gialle attraverso la condivisione di elementi di criticità in chiave operativa.